Dopo il mese di maggio che ci siamo lasciati alle spalle, il maggio più freddo degli ultimi vent'anni, ecco che anche giugno sembra voler ricalcare lo stesso copione. Ieri infatti, domenica e primo weekend del nuovo mese, è stata sicuramente una giornata deludente per chi aveva programmato un momento di relax in spiaggia o lungo il litorale di Scoglitti, perché a farla da padrone sono stati vento ma anche una temperatura non propriamente primaverile, tant'è che molti hanno preferito dopo pranzo far ritorno in città, non certamente soddisfatti i proprietari dei lidi della costa e gli esercenti commerciali che si aspettavano ben alto dalla prima domenica di giugno, che è stata un'autentica delusione per tutti. Nelle prossime ore comunque l'instabilità e il tempo incerto dovrebbero persistere, secondo gli esperti questa situazione si protrerà fino a fine settimana, poi il clima dovrebbe assestarsi e rientrare nella norma. Unica certezza insomma è che l'estate vera, quella cioè definitiva, dovrebbe arrivare a metà mese. Meglio che niente per qualcuno, anche perché poi coinciderebbe con la chiusura delle scuole. Allora... 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 Grazie a tutti.